buongiorno a tutti e per un nuovo video questa sera faremo bombice domani uscirà un video di minecraft poi anche anche sabato al pomeriggio domani non so preciso che ora beh vai con la sigla questo sarà il primo video di bombice oggi vogliono tutte le truppe qua vabbè ci proviamo ho già paura che mi muoiono in tre secondi no 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 la connessione wifi qua mi fa impazzire e mo' di nuovo e lo sapevo dovevo aspettarmelo oggi non è successo anzi sì che mi è successo ma mi avete fatto perdere monete e devo riattaccare mi avete fatto perdere un attacco porca puttana questo è il mio ultimo attacco quindi devo approfittarmi di cui cazzo in casa ecco sono morto di brutto porco di genio tutto colpe scottabile porca trotta forse una trotta sarebbe stata più forte di voi eh e vabbè qua abbiamo finito non me l'aspettavo non me l'aspettavo ma vabbè vediamo ecco il problema è che non le truppe quindi facciamo una piccola gemmatina vediamo gemmiamo loro dato le gemme qua non sarebbero un cavolo non è mica come a clash of friends cui appunto le gemme servono per potenze corte generare o gemmare tutto vediamo una base di risorse me la riprendo me la continuo me la attaccare santuario santuario no poca vita poca vita mi sto facciamo paura sergente brick ho sbagliato non so se è sergente brick ma vabbè ho sbagliato sono troppo alto no ho dimenticato di cambiare il comando questo qua vediamo se ci aiuta voi guaritori mi raccomando figurate questa qui se perde vita ecco esatto questo avevo dimenticato mi serviva il controllo armi prima magari controllavo tipo un lanciachiam e distruggeva gli altri ma gli altri le sparavano è l'ultima volta che lo posso dare questo qui quindi sono una bella vabbè colpisci perfetto colpisci che fai danno è boom te lo do io il boom questo è una scena una handica boom vuoi i tuoi script script come cazzo li chiamati è quasi script magari devi fare i suoi script robotici chissà che danni dovrebbero fare come cazzo questo era già cuturo no eh mmm è stato facile non so è un po' noioso questo video ma domani uscirà un bel video micratt nuovo difeso il cannone esclusivo ma perchè ha metto un po' dietro c'è arcipizia ho capito cosa ha fatto questo qua tutto viene qui pochino eeeh so io com'è col nuovo cannone esclusivo farà la guardia lo mettiamo qua ecco e qua mia scemo li avevamo messi tutti qui vicini chissà quante volte l'hanno attaccato mentre io l'ho lasciato stare perchè sono montati di meno che lo modifichi lascialo come l'ho messo io santuario santuario non si può affermare direttamente in spiaggia no eh noi non uccidiamo quei brutti fucilieri non mettiamo le fuciline che usano il lancio a missili eh limina lì un po' sti alberi mi fai confumare a me monete scorro allora noi non mi ricordo neanche più che truppo usavano ne siamo da tutti armati fucilieri no fucilieri forse erano un po' scemo i lanciafiammi sono i peggiori per le truppe anzi sono quelli che fanno più danni a parte i cannoni esclusivi ma non fanno colpi multipli multipli vabbè 1 e 4 lo so scrivetevi nei commenti come mettere il villaggio come questo modifica sta base di risorse perché ho paura che mi riattaccherai però adesso lascio e per chi ha già bombicchio vuole entrare nella mia unità operativa la mia unità operativa si chiama forza 4 un po' un po' stupido ma siamo un'ottima unità operativa siamo fortissimi punti dell'unità operativa 3442 questo tipo andiamo da una brutta posizione ma per fare questi punti qua dobbiamo spaccare è un lavoro di squadra puoi fare solo un attacco io ho attaccato diciamo che ho rallentato questo poi qua l'hanno abbattuto sono stato il primo ad attaccarlo diciamo che ho rallentato mi sembra le mine qua in mezzo anche ma che li toglie questi lanci a fiamme erano tosti livello 19 ma ne ho controllato uno e ha devastato gli altri due beh quasi comunque ci vediamo nel prossimo episodio ci vediamo domani per l'episodio di minecraft ricordatevi di lasciare un bel mi piace iscrivervi e iscrivervi da un mio amico i leggendari mi raccomando ci vediamo alla prossima puntata grazie a tutti